eh, non abbiamo avuto il super tutto, sono Antonio Antonio e oggi siamo nel video vlog, bibi! domani come l'ho promesso e come lo farò e adesso lo farò domani video speciale Ho! Alla orello! a pomeriggio domani pomeriggio nuovo video faremo un video con ciao davvero rivestente ve lo giusto lo accenderemo io mi emozionerò non sono davvero gioia perché lo facciamo sempre niente questo video sarà il mio preferito una cosa da dire io sesso voglio farvi vedere il mio piaggio ciao perché io l'accello io ho 8 anni io ho imparato l'accello non mezza pedalata cioè mettiti in mano alla frizione fai col pedale lasciati scatti con la frizione subito acceleri come si è acceso in piaggio ciao così già l'accenti con i pedali come la piccola piccola motone niente questi sono i cosiddetti che vi dovevo dire e iscriviti e attiva la campanella per non perderti adesso però baby e condividi questo video con chi vuoi e io vi dico che io seguo su instagram trovate come doni antonio 2010 niente raga questo video non è qui perché vi dovevo dire solo questo quindi ci vediamo 5 minuti dopo ciao raga